Sì, noi fino ad oggi, e continuiamo a farlo, abbiamo impiantato il Sincardia, che è un cuore artificiale totalmente, diciamo, meccanico, ovvero ha quattro valvole all'interno che sono meccaniche, mentre il CARMAT, l'ultimo nato, quello impiantato nei giorni scorsi, è un cuore che ha quattro valvole biologiche. Questo già anche ai profani, è chiaro che è molto più semplice la gestione, innanzitutto non è rumoroso, la rumorosità è un po' il grosso limite dell'altro apparecchio, mentre avere valvole biologiche significa anche non dover scoagulare il paziente in maniera importante, quindi avere minori rischi trombotici, minori rischi emorragici. Stiamo sulla strada buona per un cuore bionico. Diciamo che nei prossimi anni speriamo che ci siano altre novità e speriamo soprattutto di continuare ad essere i primi nell'impianto.